Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le radici del futuro, il primo laboratorio televisivo rurale alla scoperta delle risorse della Toscana, anche delle scuole. Infatti oggi ci troviamo a Cortona, in provincia di Arezzo, all'Istituto Tecnico Agrario Angelo Vegni. Eh sì, non abbiamo sbagliato indirizzo, siamo tra polli, fagiani e galline, ma in realtà siamo in un pollaio didattico, quindi un pollaio tutto particolare. Ci aiuteranno a capire perché abbiamo deciso di partire proprio da qui i due studenti che oggi sono qui con noi, che ci fanno compagnia e ci aiuteranno soprattutto a capire che cosa si studia e che cosa si impara a fare qui al Vegni. Loro sono Mariangela Biagiotti, ciao Mariangela. Poi abbiamo Andrea Scaccini, ciao Andrea. Intanto una domanda, perché hai scelto questa scuola? Ho scelto questa scuola perché fin da piccolo ero impegnato nel settore agricolo, in quanto ho una piccola azienda di famiglia e mi piaceva approfondire questo argomento presso questa scuola. Benissimo. E tu Mariangela dici perché questo percorso di studi e qual è la cosa più bella? La cosa più bella di questa scuola è che oltre alla semplice regola teorica, cioè alla semplice regola letta nei libri, ci viene permesso di approfondire, di chiarire meglio i nostri dubbi tramite l'applicazione pratica, portandoci o in campo o nei vari laboratori o nelle varie uscite didattiche. Benissimo. Ecco, poi aiutateci a capire perché partiamo proprio da qui, da un pollaio. Partiamo proprio da qua perché ci sono dei nostri ragazzi, dei nostri compagni di classe che stanno effettuando una lezione di zootecnia. Se vuoi vi ci accompagniamo. Perfetto, andiamo. Quindi qui al Vegne non si studiano solo le piante ma anche gli animali. E qui con noi c'è Allegra Salvadori che si sta occupando proprio dell'incubatrice. Andiamo a conoscerla. Ciao Allegra. Allora, tu ti occupi dell'incubatrice. Che tipo di lavoro è? Ci sono dei cestelli, contengono queste uova, devono essere girate con la punta verso il basso e al diciottesimo giorno vengono messe nella schiusa, che è questa griglia. E c'è anche, come possiamo notare, un cestello contenente acqua che serve per mantenere l'umidità e quindi per facilitare la nascita dei pulcini. Allegra, che tipo di impegno è aiutare una vita a venire al mondo? È un impegno molto bello, interessante per noi alunni. Far nascere un pulcino è appunto da un uovo. In 21 giorni riusciamo a vedere l'individuo. È una bella soddisfazione. E di là ho visto ci sono proprio i pulcini. Andiamo a vedere da vicino. Si alimentano di semi, quindi mangime di prima nutrizione. Possiamo vedere una lampada che è infrarossi e serve per il riscaldamento. Questo è un cerchio. È senza angoli, in quanto così i pulcini non si possono sovrapporre l'uno all'altro. Si è stata chiarissima. Ecco, qui con noi c'è il professor Fabrizio Romanelli. Salve professore. Ecco, lei segue da vicino questa attività. Quanto è importante a livello didattico? Ma è molto importante perché i ragazzi prendono visione di quello che effettivamente è la realtà, anche di un piccolo allevamento come quello appunto del pollame, che però li coinvolge molto perché effettivamente si vedono da vicino anche la schiusa delle uova, quindi anche lo sviluppo dei piccoli animali. Sappiamo che è partecipata a delle gare di valutazione degli animali di grossa taglia. Ecco, ci spieghi meglio. Sì, il nostro corso di tecnica di produzione animale, oltre appunto a questi piccoli animali che sono qui presso il nostro istituto, ci consente di studiare più da vicino anche i grossi animali come i bovini soprattutto, sia quelli per la produzione della carne che quelli per la produzione del latte. E come atto finale di questo studio i ragazzi partecipano a gare di valutazione tra istituti agrari di tutta Italia. Avete vinto dei premi, vero? Effettivamente diciamo che i nostri ragazzi difficilmente non arrivano sul podio e quindi siamo veramente molto orgogliosi dei nostri ragazzi. L'anno scorso, non ultimo, abbiamo vinto le gare nazionali, quindi siamo primi in Italia e la cosa insomma ci fa molto veramente... Vi fa onore, complimenti. Poi sappiamo che molto importanti e rinomati sono anche i vostri prodotti. Si sente spesso parlare di filiera corta, soprattutto in questo periodo di crisi. È vero che qui la mettete in pratica proprio dentro all'istituto. I vostri prodotti sono quelli che poi mangiano i ragazzi del convitto. Sì, sono proprio appunto i prodotti di questo pollaio che i ragazzi seguono e che sia dal punto di vista delle uova che anche dal punto di vista anche del pollame adulto vengono poi utilizzate nella mensa del nostro istituto. Quindi effettivamente si può parlare di filiera ultra corta, la distanza è brevissima insomma. Benissimo, professore la ringraziamo, la lasciamo al lavoro. Noi andiamo a conoscere la scuola. Partiamo ragazzi, io direi, dalla presidenza. Cosa ne dite? Mi accompagnate? Sì, certo. Vi accompagniamo allora da lei, da altri professori che seguono da vicino l'alternanza scuola-lavoro, sia l'azienda che l'associazione Amici del Vegni. Quante cose, quante attività, andiamo a conoscerle. Bene, stiamo arrivando in presidenza, giusto? Sì, ora però ci dobbiamo salutare perché noi dobbiamo andare in laboratorio di chimica. Ah, avete lezione, va bene, ci vediamo dopo. Grazie ragazzi, a più tardi. Ciao. Buongiorno, salve, piacere, Maria Grazia, salve. È la dirigente Maria Beatrice Capecchi, è qui con i suoi collaboratori. Salve, un saluto a tutti, poi ci conosceremo pian piano. Allora, intanto ci dica un po', noi siamo appena arrivati, abbiamo già visto che questa sembra più di una scuola, è una realtà complessa, collegata a un'associazione, a un'azienda, è così dirigente? È proprio così. Questo è un istituto, una scuola che si specifica rispetto anche alle altre scuole dello stesso indirizzo, proprio perché è nata dall'azione filantropica di Angelo Vegni, che nel 1886, siccome è legato a questo territorio, ha voluto donare l'istituto e l'azienda agricola ai figli dei contadini che potessero così riversare le loro competenze in questo territorio stesso. E quindi ha anticipato di decenni quello che è un laboratorio aperto, un'azienda agricola a disposizione dei ragazzi, anticipando anche quello che poi sarà istituito dalla nuova riforma che vede appunto gli istituti tecnici e professionali, degli istituti dove si investe in maniera particolare su un laboratorio, attività laboratoriali. Ecco, dirigente, con la riforma cosa è cambiato qui da voi al Vegni? Allora, con la riforma è cambiato che al di là dei cinque anni, no? Nel quale uscivano i periti agrari, avevano un curriculum unitario, adesso abbiamo un biennio e alla fine del biennio i ragazzi possono scegliere tre indirizzi, gestione del territorio, dell'ambiente del territorio, e enologia, viticoltura e produzioni e trasformazioni. Poi sappiamo che uno dei fiori all'occhiello di questa scuola è anche la possibilità di mettere in pratica le cose che imparano questi ragazzi in aula attraverso degli stage. La professoressa Anna Migliaccia è quella che si occupa proprio di questo aspetto. Salve, professoressa, ci aiuta a capire un po' come funziona questa alternanza scuola-lavoro? Allora, l'alternanza scuola-lavoro è un'attività che la nostra scuola ha iniziato da diversi anni, non solo in questi ultimi anni di riforma. Quindi il nostro territorio è ricco di aziende agrarie, aziende agrarie che hanno l'opportunità di avere a capo ragazzi che hanno frequentato questa scuola. Quindi loro accolgono, diciamo, con entusiasmo i nostri ragazzi a fare lo stage presso la loro scuola. Quindi i ragazzi delle quarte e delle quinte hanno questa opportunità. Per le quarte quest'anno abbiamo avuto dei contatti con l'azienda biologica, biodinamica, la Vialla del nostro territorio e li ospiterà per tre settimane quest'anno. E invece i ragazzi di quinta faranno alternanza all'interno della nostra azienda agraria che abbiamo di 126 ettari. Quindi una bella azienda agraria. Di questo ci parla il professor Tremori, Graziano Tremori, che si occupa proprio di questo aspetto. Ci racconti un po' com'è strutturata questa azienda. Allora, la nostra azienda è allo stato attuale di 125 ettari che sono suddivisi in due corpi. Un corpo più grosso di un centinaio di ettari che è qui in tutto intorno all'istituto e una 25 di ettari a pochi chilometri di distanza in località Monsigliolo. Nei 125 ettari noi facciamo per la maggior parte seminativo circa un'ottantina di ettari. Poi dopo c'è un bosco di una ventina di ettari e poi c'è il vigneto anche qui di una ventina di ettari. Abbiamo anche tre o quattro ettari di oliveto specializzato. Perfetto. E poi c'è anche un'associazione perché molte di noi hanno dei ricordi abbastanza brutti della scuola e invece qui addirittura si diventa amici dopo la scuola. Amici del Vegni. Ci racconti? Lei è Gianfranco Santiccioli, presidente dell'associazione Amici del Vegni. Di che cosa si occupa? Dunque l'associazione è nata 50 anni fa circa e si occupa di tenere i rapporti fra gli ex allievi, i soci e questa istituzione scolastica che è ultracentenario ormai. I rapporti vengono tenuti attraverso un nostro giornale quadrimestrale che si chiama Il Leccio. Abbiamo fatto anche delle pubblicazioni interessanti che riguardano l'istituto Vegni e soprattutto il personaggio Angelo Vegni. Quindi una bella storia, un'associazione dalla storia antica ma che continua tuttora nel presente, giusto? Sì, perché i nostri contatti sono frequenti con tantissime persone e istituzioni per cui cerchiamo di rilanciare sempre l'immagine positiva di questo istituto perché effettivamente per la nostra zona, per il nostro territorio è un qualche cosa di estremamente importante. Benissimo. Allora andiamo a scuola anche noi a vedere con i nostri occhi tutte le belle cose di cui ci avete parlato. Grazie e buon lavoro. Arrivederci. Siamo nel laboratorio di chimica dove i ragazzi sono impegnati in prove di analisi del vino. Qui con noi c'è Elisabetta Pierantozzi. Elisabetta, ciao e soprattutto che cosa stai facendo? Sto eseguendo l'analisi sull'acidità totale del novello prodotto da noi ragazzi. Si tratta di un esperimento a freddo, si tratta di grammi litro di acido tartarico e utilizziamo idrossido sodico 0,25 normale, un indicatore di viraggio blu di bromotimolo. E si tratta di una neutralizzazione degli acidi a parte delle basi. Ecco, sembra un'operazione complessa quella del tuo compagno, così? No, non si direbbe. Sta mettendo l'NAOH 0,25 normale che servirà per titolare poi il novello. Benissimo. Cerchiamo di chiarirci le idee con il vostro professore perché qui all'Opera con le Quinte c'è un insegnante tecnico pratico, il professor Marco Presenti. Piacere di conoscerla e di trovarla qui al lavoro. Buongiorno. Ci indica un attimino quanto è importante questa attività a livello didattico, a livello pratico, operativo per i ragazzi. Sì, è un'attività fondamentale. Il ruolo quello dell'insegnante tecnico pratico è appunto di guidare i ragazzi nelle esercitazioni agrarie. Per ogni disciplina, diciamo così, tecnico-professionale sono previste delle esercitazioni. Qui siamo nel laboratorio di chimica e i ragazzi apprendono quali sono le tecniche fondamentali e necessarie per analizzare tutti i prodotti. Partiamo nella chimica del primo bienio con l'analisi della chimica appunto in organica, per passare al secondo bienio con le analisi della chimica e biochimica organica, per approdare appunto con i ragazzi della Quinta l'analisi dei prodotti dell'agroindustria, quindi vino, latte e olio. Sono analisi fondamentali. Perfetto, e prendono dei parametri, parametri a livello di acidità. Sì, sì, per quanto riguarda quelle che sono le analisi merceologiche, appunto per poter classificare, diciamo così, attraverso standard qualitativi i prodotti, vengono presi, evidenziati, analizzati componenti fondamentali. Ad esempio per il vino una componente fondamentale è l'acidità espressa nell'acido tartarico. Per quanto riguarda l'olio che stanno eseguendo questi ragazzi, il parametro fondamentale che indica un olio extravergine d'olivio è appunto la quantità di acido oleico che è contenuto. Ecco, perché è importante che questi ragazzi imparino anche a analizzare e soprattutto a valutare questi parametri? Bene, è fondamentale perché questi ragazzi saranno i nostri tecnici del futuro, saranno coloro i quali, diciamo, valuteranno, daranno qualità ai prodotti agricoli. Oltre che guideranno tutti in un uso, diciamo, responsabile dei prodotti alimentari, che siano essi alimentari come l'olio che alimentari come il vino. Ecco, professore, a proposito di uso responsabile, ci viene da pensare che questi ragazzi siano più esperti di altri nel conoscere anche proprio questi prodotti, il vino. Ecco, rispetto anche all'alcol, sono dei consumatori più consapevoli rispetto ai loro coetanei? Ma sicuramente quelle che sono i percorsi didattici, soprattutto la scoperta guidata di queste analisi e di questi parametri, fa sì che questi ragazzi abbiano un qualcosina in più da spendere. Quelle conoscenze, soprattutto competenze professionali, portano a capire magari gli effetti devastanti di un uso sconsiderato appunto dell'alcol, oppure anche l'uso sconsiderato di prodotti alimentari, quali possono essere prodotti grassi che, diciamo, si alimentano quella che è la produzione del colesterolo. Perfetto, professore, è stato molto chiaro. Noi intanto andiamo anche proprio fuori in azienda, perché sappiamo che i ragazzi seguono tutti i vari passaggi della produzione, dal fare esperimenti, ma non solo, perché effettivamente seguono i passaggi fino ad arrivare proprio alla cantina. Quindi noi vorremmo andare a vedere, ragazzi, anche il vigneto, perché poi tutto parte da lì. Ci potete accompagnare? Andiamo, togliamo i camici e vigniamo. Grazie, andiamo. Siamo arrivati in uno dei vigneti della scuola, dove passate diverse ore alla settimana, vero Andrea? Sì, qui passiamo circa tre giorni a settimana nel periodo di potatura per mettere in pratica appunto quello che abbiamo imparato in classe e nel frattempo di non interrompere totalmente la didattica e andare avanti con il programma. Anche quello è importante. Ecco, Maria Angela, ma come si pota una vite? Cioè, come si distingue un tralcio che deve essere eliminato da uno che invece darà frutto? La particolare tecnica che viene utilizzata nella nostra azienda è quella a cordone speronato. Il cordone speronato è una particolare forma di allevamento che consiste nel lasciare un tronco alto generalmente 80 centimetri che si dirama orizzontalmente con una lunghezza da 1 a 2 metri. In questo cordone fisso vengono generalmente lasciati quattro o cinque speroni, ognuno dei quali conterrà due gemme. Sembra molto interessante, ma adesso qui vediamo il professore che è impegnato proprio mentre i ragazzi della Quinta A stanno svolgendo una lezione di potatura delle viti. Salve, allora, lei è il professor Ales? Alberto, sì. Piacere. Intanto ci spieghi un po' come è strutturata questa attività. Dunque, questa attività che state osservando è la parte pratico-applicativa del corso di produzioni vegetali, corso nel quale gli alunni hanno l'opportunità di verificare sia per i contenuti teorici che per i pratico-applicativi le tecniche appunto di produzione sia delle colture erbacee sia delle colture arbore. Nello specifico, in azienda, abbiamo colture olivicole e viticole allevate con le forme di allevamento caratteristiche della zona. Professore, ma come si valutano questi ragazzi? Questi ragazzi si valutano sia per le competenze che maturano nelle lezioni teoriche d'aula, ma anche per le competenze pratico-applicative che hanno modo di maturare con le esercitazioni pratiche che appunto facciamo in campo, in campagna, coadiuvati sempre dall'insegnante pratico-applicativo che li segue nelle loro attività. Che li sta seguendo anche in questo momento. Il collega li sta seguendo in questo momento. E' anche vero che poi loro seguono tutta la produzione, da qui alla cantina. Certamente, certamente. E mentre ci trasferiamo in cantina, andiamo fuori campo ad ascoltare l'intervista a Simone Tarducci della Regione Toscana. Quali sono in Toscana le priorità del settore agricolo? Questa nuova giunta, due anni fa, all'insediamento, ci ha dato tre grandi priorità. La prima di tutte, in assoluto, è ringiovanire l'agricoltura. L'età media degli agricoltori in Toscana è intorno ai 65 anni. Appena l'8% degli agricoltori oggi in Toscana ha meno di 40 anni. Quindi la principalità assoluta è inserire i giovani in agricoltura, altrimenti fra 20 anni ci troveremo a avere sì agricoltura, ma non avere più agricoltori. Abbiamo finanziato ad oggi oltre 1.700 giovani che in questi 5 anni si sono insediati per la prima volta in agricoltura. L'ultimo bando, il più grosso, abbiamo investito quasi 50 milioni di contributi europei, finanziando oltre 500 giovani che per la prima volta si sono insediati in agricoltura, hanno aperto un'azienda agricola. Poi ridare reddito all'agricoltura. Perché abbiamo pochi giovani? Perché in agricoltura è vista come un settore dove si fatica molto e si guadagna poco. Non è vero. Dobbiamo convincere i giovani che c'è reddito, c'è futuro, c'è sviluppo anche in agricoltura. E infine fare più agricoltura in Toscana, abbiamo tanti terreni da utilizzare, in questi anni c'è stata una grande industrializzazione in Toscana, ci siamo dimenticati un po' dell'agricoltura, ce ne dobbiamo ricordare. Oggi produce intorno al 2-3% del pil toscano, possiamo benissimo sviluppare, trovare spazi per l'agricoltura. Ci troviamo nella cantina del Vegni, dove viene prodotto quel vino che rende famoso a questa scuola e anche questa azienda. Siamo con la professoressa Roberta Capitoni, che sta seguendo i ragazzi in una lezione tecnico-pratica. È insegnante di chimica agraria, giusto? Sì, sono insegnante di chimica agraria e i ragazzi qui stanno imbottigliando il vino novello, prodotto dalla classe 5a C, modulo agroindustriale, in collaborazione con la cantina didattica della scuola. Ecco, voi avete dei progetti in ambito enologico, vari progetti, ce ne può parlare, ci spieghi meglio. Il principale è la produzione del vino novello, nato nell'alternanza scuola-lavoro, fatta all'interno dell'azienda. Ed è iniziato lo scorso anno, i ragazzi hanno partecipato a tutte le fasi della produzione del vino, dalla potatura invernale fino alla raccolta fino agosto e poi alla produzione in cantina e all'elaborazione anche dell'etichetta del vino elaborata da ragazzi. L'altro progetto che stiamo seguendo è il Vinsanto. Il Vinsanto, dove i ragazzi anche qui hanno seguito la raccolta, l'appassimento e la produzione. Sempre all'interno della cantina facciamo nelle ore di progetto delle esercitazioni qua in cantina, dove appunto i ragazzi hanno la possibilità di sperimentare anche cose nuove, perché il vino novello non era mai stato prodotto dalla nostra cantina. È il primo anno che esce come nuova etichetta della cantina. È un progetto che appassiona i ragazzi, sono attività che li rendono partecipi, coinvolti in prima persona. Sì, è un progetto che li rende partecipi e li appassiona molto. Qui viene prodotto vino ma anche olio, olio di ottima qualità a quanto ne so. Sono di ottima qualità e sono i ragazzi impegnati anche in un progetto sull'olio. Bene, allora dovremo andarlo a scoprire, ci trasferiamo nell'oliveto e vi lasciamo lavorare. Grazie professoressa. Siamo in uno degli oliveti della scuola. L'olivo si sa è una pianta tipica della nostra terra, dei nostri paesaggi. Siamo così abituati a vederla che spesso non ci rendiamo conto di quanta passione, e di quanta cura hanno bisogno queste piante per crescere in salute. Qui ci sono le nostre guide impegnate proprio nell'attività di controllo di eventuali insetti, animali, funghi che possono danneggiare la salute di questi splendidi olivi. Ecco, Andrea, dici un po' che cosa hai scoperto. Abbiamo rilevato la presenza di una batteriosi, ovvero la rogna dell'olivo. È una malattia diffusa dalla cattiva potatura, gestione, potatura dell'olivo. Quindi l'avevi potato male, questo olivo? No, soltanto che l'organo principale di trasmissione appunto è l'uomo, con gli strumenti di potatura appunto con le forbici. Quindi siamo noi che li facciamo ammalare? Sì, la fonte principale siamo noi appunto. E per quanto riguarda anche le temperature, fa molto freddo, c'è un sacco di nebbia oggi. Ecco, ne risentono queste piante? L'olivo è una pianta che ha una media resistenza al freddo, in quanto inizia a soffrire, soprattutto le rame più giovani, con una temperatura di meno 7 gradi. E quindi una giornata come oggi, diciamo, non è che influisce molto. Non soffre troppo. Ecco, Maria Angela, invece tu spiegaci un po' anche per quanto riguarda i prodotti. Quanto è importante per ottenere un olio di qualità, curare al meglio queste piante? Sì, diciamo che è una perfetta e razionale coltivazione dell'olivo. È una condizione indispensabile se si vuole ottenere un olio di alta qualità. Quindi è necessario effettuare una corretta potatura, una giusta concimazione. Inoltre bisogna tenere presenti delle erbe infestanti e inoltre bisogna tenere presenti delle principali avversità, che nel nostro territorio sono rappresentate dalla cocciniglia, dall'occhio di pavone, dalla rogna e dalla mosca olearia, la quale va a produrre le olive cosiddette bacate. E quest'ultime conterranno un maggior grado di acidità e conseguentemente avranno un gusto meno fruttato. Bene ragazzi, allora vi lasciamo al lavoro. Ci vediamo magari più tardi a menza, a pranzo, va bene? Nel frattempo noi andiamo in serra e ci trasferiamo però a vedere quale azienda ci propone questa settimana la rubrica Campolungo. Baugiano è una fattoria, siamo in campagna per cui qua coltiviamo la campagna, abbiamo un allevamento di animali, è una fattoria didattica, la sua particolarità è proprio questa, in quanto qui ci coltiviamo i bambini a tutto tondo, bambini con le scuole, bambini con le famiglie, centri estivi, agri-vacanze, qua abbiamo bambini quasi tutti i giorni. Il fine settimana in particolare accogliamo le famiglie che vengono qui a passare l'intera giornata, perché fanno la didattica, il pranzo, accogliscono gli animali e quindi siamo un po' quelli che potevano essere prima la nonna in campagna. Si viene qui per divertirci, per imparare tante cose, apprendere dei contenuti importanti, significativi, capire i valori delle tradizioni, dell'appartenenza al nostro territorio, i valori trasmessi dalla campagna, il cibo naturale, si cerca di avvicinare il campo alla tavola, facciamo anche mercati di campagna amica per il mercato e quindi facciamo un pochino tutto quello che si può fare in campagna, un'azienda agricola multifunzionale infatti, siamo anche fattoria sociale, lavoriamo con i disabili mentali, ne abbiamo sei impiegati al momento e l'esperienza più particolare che abbiamo, quella che ci contraddistingue, è quella della latteria dei ragazzi, con ragazzi che vanno dagli 11 ai 18 anni e che vengono qui a fare un'esperienza molto molto particolare. Io sono Anna, ho 16 anni e sono la presidente della latteria dei ragazzi. La nostra è un'associazione che è composta da una ventina di membri, di adolescenti che vengono da varie città di tutta l'Italia e ci occupiamo principalmente di gestire il punto vendita di campagna amica all'interno dell'Oase Agrituristica di Baugiano, Acqua Arrata. Alcuni di noi ragazzi sono diplomati in mungitura e di fatti ci occupiamo di mungere le mucche, di accudirle, di alimentarle durante una volta al mese, a seconda di che giorni siamo disponibili. Una volta a settimana invece ci occupiamo di preparare lo yogurt per le mense di Comune di Coarrata, per i bambini elementari. Personalmente mi sono avvicinata alla latteria all'inizio, proprio quando eravamo i primi membri ancora e non era ancora nata. Abbiamo deciso di formarla e io sono stata una delle primissime persone a cominciare a mungere. Noi ragazzi abbiamo messo molto impegno e molta passione in tutto quello che abbiamo programmato di fare. Personalmente, insieme a tutti gli altri ragazzi, avremmo molto piacere di trovare altri adolescenti che vogliono condividere con noi questa esperienza. Io sono Miriam e ho 18 anni. Fino ad ora sono stato il vicepresidente della latteria e da quest'anno potrò diventare parte del consiglio degli adulti. Così, nel passare degli anni, formeremo un consiglio tutto di noi ragazzi, perché all'inizio eravamo tutti minorenni. Per formare questa associazione dove siamo tutti ragazzi che lavorano, fanno il formaggio, imparano proprio a formarsi un vero e proprio stile di vita, quello della campagna. Noi quindi stiamo crescendo per aspettare questo momento in cui saremo un'associazione a tutto sondo per poter imparare ogni segreto della multifunzionalità in agricoltura. Io sono stata una tra i pochi ragazzi, come Anna, che ha parlato prima di me, che ha iniziato il percorso della latteria. Insieme ad altri ragazzi siamo stati i primi mungitori diplomati e tuttora noi continuiamo questo percorso. Da un anno e mezzo siamo stati inseriti nella rete rurale europea come caso di eccellenza e di questo ne possiamo andare molto fieri. Io non vengo dalla campagna, vengo da tutt'altro, però me ne sono innamorata. È impossibile non subire il fascino della campagna. Spero che i giovani, che i ragazzi sentano questa attrazione, questo richiamo incredibile, perché dalla campagna sono convinta che parta il futuro, il cambiamento e il miglioramento di tante cose. Spero che sempre più ragazzi, come i nostri ragazzi, si avvicinino e che coltivino questa passione, nel piccolo come nel grande, nelle piccole scelte come nelle grandi scelte. Basta parlare anche del senso del cibo, il cibo che parte dal campo e arriva alla tavola. Riuscire a capire qual è un prodotto buono, un prodotto di qualità, l'autenticità. Sono tutte piccole cose che si imparano solo facendole, solo stando ci a stretto contatto. Adesso siamo nella serra didattica con il professor Giorgio Tonziello. Qui ci sono all'incirca 30 ragazzi diversamente abili che lavorano con successo, con le talee in questo momento, ma in generale comunque con le piante officinali, con i gerani. Ecco, intanto ci spiega un po' professore quante e quali specie di piante sono presenti qui, proprio piante officinali, giusto? Nel pieno delle attività ne facciamo parecchie, il timo, il maggiorana, il rocmarino e tante altre, diciamo così. Poi, diciamo così, l'ingrosso che viene fatto qui dentro del lavoro è quello delle talee, specialmente di gerani e parigini, perché ci siamo accorti l'anno scorso, anche se abbiamo seminato bulbose e altre cose. Quando organizziamo il mercato, il mercatino, diciamo così. Avete anche un mercatino? Sì, abbiamo il mercatino sempre organizzato dai ragazzi che vendono queste piante, il ricavato, diciamo, ci torna utile per riacquistare i prodotti e fare tutto un ciclo, diciamo così. Un ciclo virtuoso. Sì. Ecco, so che avete anche dei progetti che avete elaborato e portato avanti proprio qui in Serra. Sì, sì. E con questo progetto i ragazzi hanno imparato anche a relazionarsi, a stare insieme. I ragazzi qui dentro, diciamo così, sono dei ragazzi diversamente abili, con un programma differenziato, cioè quindi abbastanza, ci sono alcuni ragazzi abbastanza gravi, che però in questo ambiente, diciamo così, protetto, crescono con le relazioni che interagiscono tra di loro, fanno gruppo. Quindi riescono a dare veramente il meglio. E allora andiamo a conoscerli, questi ragazzi, a sentire proprio da loro come sta andando. Ecco le fa. Allora, intanto qui con noi abbiamo David, David Dolcetti. Ciao David, intanto cosa stai facendo? Sto piantando. Spiegaci un po'. Si immerge nell'acqua, dopo si mette sul radicante, se ne mette poco, si mette su un vasettino pieno di terra, si stringe a terra intorno e poi si completa con un'altra terra, con un altro terriccio e si annaffia. Perfetto, il lavoro è ultimato. Sì. David, tu cosa vuoi fare da grande? Hai già progetti per il tuo futuro? Sì, per il tuo agrario. Perfetto, allora in bocca al lupo per il tuo lavoro e noi intanto ci trasferiamo a conoscere un'altra realtà di questa scuola, il convitto. Grazie e buon lavoro. Siamo arrivati nell'area ricreativa del convitto del Vegni e vediamo i ragazzi che giocano a ping pong, a tutte le attività più varie. Ecco, scusateci se vi interrompiamo. Allora, abbiamo qui con noi l'educatrice del convitto, Norrina Sanzano, giusto? Sì, esatto. E Paolo Gentili, che viene da San Casciano. Allora, spiegateci un po'. Intanto dove ci troviamo e poi perché uno dovrebbe scegliere di venire a studiare, a vivere qui al convitto? Bene, diciamo che questa è la sala ricreativa del convitto, è il luogo un attimino di maggiore aggregazione dei ragazzi, soprattutto nei periodi di ricreazione. I ragazzi qui possono, diciamo, passare quei momenti prima di arrivare allo studio, giocando sia con i vari giochi, con la zona lettura. Ci sono varie attività che possono svolgere, soprattutto quando è cattivo tempo. Poi invece, quando è bel tempo, chiaramente all'esterno possono trovare grandi possibilità di spaziare con varie attività perché... Avete un parco bellissimo. Esatto, oltre che in grandi impianti sportivi, quindi che i ragazzi si possono dilettare in qualsiasi attività. Perché scegliere il convitto? Il convitto nasce inizialmente per sopperire a quella che è la difficoltà di alcune famiglie di far raggiungere questa scuola per quei ragazzi che vengono da località abbastanza lontano o che comunque sono mal collegate con questa realtà. Paolo, raccontaci, cosa significa vivere qui 24 ore su 24? Perché poi è questo che fate. Stare al convitto 24 ore su 24 significa stare a contatto nell'ambito scolastico 24 ore al giorno con gli amici, condividere i momenti di studio, i momenti di divertimento insieme a loro. Quindi davvero non siete mai soli. C'è un aspetto un po' pesante però, qualche fatica in questo percorso? Sì, la mancanza della famiglia, la mancanza di casa. Però voi rientrate nelle vostre abitazioni nel weekend, giusto? Sì, il sabato pomeriggio ogni weekend si rientra in casa e se è lunedì mattina si ritiene al convitto. Benissimo, poi qui penso che si creino dei legami davvero forti anche tra voi. Le amicizie che uno fa qui in convitto se le mantiene per tutta la vita. Quindi sono quelle più belle e più forti effettivamente. Bene, noi praticamente abbiamo finito la visita alla vostra scuola, il tempo a nostra disposizione è davvero concluso. Aspetti, prima di andare via dovete assolutamente assaggiare i nostri prodotti della scuola. Volentieri. Allora ti seguiamo. Adesso ci salutiamo con un bel brindisi qui nella mensa del convitto e vi ringraziamo perché abbiamo scoperto una scuola dal sapore genuino dove davvero la qualità dei rapporti umani e dei prodotti è al primo posto. Allora ringraziamo la professoressa Anna Migliacci, le nostre guide, Paolo, Mariangela, Andrea. Grazie ragazzi e ovviamente un ringraziamento particolare alla nostra dirigente. Grazie a voi di essere venuti e adesso brindiamo insieme. Vi ricordiamo che l'appuntamento con le radici del futuro è per la prossima settimana. Grazie di averci seguito e adesso alla vostra salute ragazzi. Grazie a voi.